Un forte boato ha svegliato centinaia di licatesi che in un primo momento hanno pensato ad un'esplosione. Invece era un tir parcheggiato sulla pubblica via, carico di mobili e altri oggetti da trasportare in tutta Italia e all'estero, che è stato divorato dalle fiamme. Notte di fuoco e soprattutto di panico in via Guido d'Arezzo a Licata, la strada che collega il centro alla playa e passa davanti alla chiesa di San Giuseppe Maria Tomasi. Le fiamme hanno letteralmente divorato il mezzo pesante di proprietà di un imprenditore licatese che si occupa di trasporti. In poco tempo il rogo ha preso il sopravvento ed essendo il mezzo parcheggiato sulla strada si è temuto anche il peggio. Sul posto sono arrivati, nel giro di una manciata di minuti, i pompieri del distaccamento di via Argentina, che si trova praticamente a meno di 500 metri dal luogo in cui si è verificato l'incendio. Erano da poco trascorse le due, quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno lavorato per cinque ore consecutive. Non è stato facile per i pompieri operare e il rischio è stato elevato, visto che il camion era pieno zeppo di materiale di ogni tipo, anche pericoloso. Un vigile del fuoco ha rischiato grosso, avvicinandosi al mezzo quando le fiamme erano abbastanza alte. Una volta scattato l'allarme, i carabinieri della locale compagnia, gli ordini del capitano Marco Currao si sono precipitati sul posto. Anche loro hanno cercato di capire da cosa potesse essere stato causato l'incendio e hanno atteso che i pompieri completassero l'opera di spegnimento per poter avviare le indagini. L'incendio, che ha creato inevitabilmente un grande scompiglio nella zona, con una famiglia che abita nella casa più vicina al luogo dove era parcheggiato il mezzo, che poi ha preso fuoco, che è stata subito evacuata, è stato spento completamente soltanto alle 7.30. Dopo quell'ora la famiglia evacuata ha potuto fare rientro a casa, perché per fortuna non si sono registrati danni all'immobile, ma tanta paura. A ruota hanno preso il via e sopra il luogo e gli accertamenti di rito. La strada è stata transennata in attesa di rimuovere i rifiuti speciali che sono rimasti nel posto in cui si è registrato il rogo, mentre qualche arresto dell'autocarro è stato rimosso da una ditta specializzata. Le cause del maxirogo non sono chiare. Spetterà l'attività investigativa, già avviata dai militari dell'arma, a fare chiarezza e stabilire cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale. Il mezzo è risultato essere di proprietà di un camionista incensurato che è già stato sentito dai carabinieri, ma non è scuso che venga riascoltato dagli inquirenti.